Abbiamo discusso il ricorso al Tribunale di Riesame e siamo in attesa che il Tribunale di Riesame si pronunci sul nostro ricorso. Che cosa avete chiesto e come l'avete modificato? No, questo non posso dire niente del merito, no, perché chiaramente anche per rispetto al Tribunale, il Tribunale dovrà esaminarlo, quindi facciamo l'esamina al Tribunale e poi noi discutiamo. Siamo al ricorso al Tribunale di Riesame, noi abbiamo chiaramente impugnato la misura, ritenendo che la misura fosse chiaramente ingiusta per quanto riguarda le princi e quindi insomma, noi abbiamo chiesto una revoca della misura cautelare in carcere e in subordine quella degli aressi domiciliari. Ritenete che ci sia una sproporzione tra il Princi e gli altri quelli coinvolte? Ma noi abbiamo detto, insomma noi abbiamo manifestato la nostra innocenza e l'innocenza del Princi. Quindi il Princi si pone totalmente al di fuori dello scambio di droga? Ma queste sono questioni di merito che noi non possiamo adesso in questo momento affrontare, le affronteremo nel processo. Noi abbiamo contestato sia la misura che chiaramente il fondamento dell'accusa, a ogni livello. Riteniamo che la misura sia sproporzionata, iniqua e non chiaramente in questo momento, insomma, questa misura che gli è stata erogata. Abbiamo chiesto in subordine, nella misura degli aressi domiciliari, che può benissimo garantire in attesa del processo le esigenze cautelari. E questo ci sembra anche alla luce della presunzione di non colpevolezza dell'indagato, insomma, una misura che potrebbe essere idonea e sostanzialmente giusta in attesa degli accertamenti, a cui nessuno di noi vuole chiaramente sottrarsi e vogliamo insomma che poi venga fuori la verità. Ma la verità non è quella per quanto mi riguarda, quella che in questo momento sta esprimendo l'accusa. Per cui lì la dichiarazione di indocenza del principe va in quella direzione.